La letteratura in 10 minuti per parlare di Luigi Settembrini, artista intellettuale, quindi letterato napoletano, vissuto a Napoli appunto tra il 1813 e il 1870, nato e cresciuto e anche deceduto nella città partenopea. Per parlare di lui bisogna fare una breve precisazione storica, stiamo vivendo il periodo in cui la città di Napoli e molte città del sud vivono un moto pre-risorgimentale e tutto questo prima del 1848. Dopo il 1848 questo moto pre-risorgimentale diventa veramente risorgimentale e c'è una grande attesa, c'è l'attesa dell'Italia libera dagli stranieri e la dinastia dei Borbone che sta occupando l'Italia meridionale, viene considerata da questi patrioti una dinastia appunto straniera, va detto che una parte del mondo meridionale non vuole l'unità d'Italia e gradisce invece la presenza borbonica e lo rappresenta anche per molti anni successivi all'unità che è targata 1861. Ma certamente Luigi Settembrini appartiene a quel gruppo di intellettuali che invece desiderano l'unità d'Italia e desiderano muoversi contro quell'assolutismo che in Europa ha, a questo punto riferimento, dalla grande potenza Austria. E così erede appunto di questa tradizione liberale che a Napoli peraltro ha delle origini anche abbastanza antiche perché comunque la Repubblica partenopea è un'istituzione napoleonica che sembrava essere un pregustare la libertà il nominista. Luigi Settembrini quindi scrive la protesta del popolo delle due Sicilie nel 1847. Siamo proprio alla vigilia di quella prima guerra indipendenza che occupa il Piemonte contro l'Austria e che vede la nascita dello statuto Albertino. E nel 1847 questo scritto di Settembrini esce appunto clandestino perché il regno delle due Sicilie non vuole assolutamente favorire in nessun modo, anzi voglio ostacolare, e frenare tutte le ideologie italianiste, chiamiamole così. Anche fonda un'associazione Settembrini, figli della Giovanni d'Italia, che non è direttamente dipendente da Mazzini che è un po' il protagonista della Giovanni d'Italia ma che si avvicina a quell'ideologia. E quando l'unità d'Italia giunge Luigi Settembrini festeggia. Ma prima di quella data nel 1849 è addirittura condannato a morte e la condanna morte viene poi commutata in un ergastolo. E qui l'ergastolo di Santo Stefano è un momento per lui di dura prova. Quando l'unità d'Italia giunge poi nel 1861 dopo la liberazione di Napoli, scrive Settembrini da parte di Garibaldi e dopo la nascita dello Stato, del Regno d'Italia appunto nel marzo del 1861, ecco che Settembrini subito dopo proprio tra il 1862 e il 1867 diventa docente di letteratura all'Università di Napoli e nel 1873 addirittura senatore del Regno. Settembrini rappresenta nelle sue opere un'istanza fortemente patriotica, italianistica, una fedeltà alla Costituzione che è lo Statuto Albertino. Questo documento appunto voluto dalla borghesia piemontese e siglato da Carlo Alberto di Savoia prima ancora dell'esilio e poi confermato anche con Vittorio Emanuele II nel momento successivo, sia quello preunitario che quello postunitario. Settembrini nella sua opera attua una fusione armonica tra l'elemento romantico e risorgimentale e un elemento di natura religiosa perché Settembrini ha una sensibilità religiosa particolare. In una delle sue opere le ricordanze che peraltro sono uscite postume nel 1879 scrive di aver nutrito sempre dentro di sé questa istanza religiosa, questa forte tensione cristiana. quindi romantico e risorgimentale perché romanticismo non significa guardare la natura in modo affettivo ma romanticismo significa leggere nell'Unità d'Italia un'urgenza, un bisogno e una grande aspettativa quando l'Unità d'Italia si realizza per Settembrini è veramente il momento di una grande felicità quella felicità a cui spesso facevano riferimento gli illuministi nelle loro lezioni. si ricordi anche l'illuminismo per quanto possa sembrare lontano appannaggio del 1700 è in realtà un momento storico che si proietta anche nell'800 nel senso che lascia la sensibilità appunto illuminista negli intellettuali dell'800. naturalmente stiamo parlando di un secolo in cui la visione della vita è particolare sta giungendo il progresso, i primi gruppi di lavoro operai si stanno organizzando il 1848 è anche l'anno in cui Marx ed Engels scrivono il manifesto del Partito Comunista la società industriale comincia a mostrare un suo volto, questo è il tempo storico di Settembrini ma Settembrini rimane legato appunto ai vecchi ideali, quelli ideali che vogliono vedere nell'Italia unita è un grande momento di partecipazione popolare, certamente quando si parla di Italia unita bisogna ricordare che l'Italia si è unita per i bisogni, le scelte, gli atteggiamenti culturali della borghesia però si può parlare in senso lato di un'esigenza popolare nel senso che è più fortemente voluta dalla gente e da quella parte della borghesia che comunque ha già preso le distanze dall'aristocrazia ecco perché in un certo senso potremmo parlare persino di un post-illuminismo nell'Italia preunitaria e nella Campania e nella Napoli preunitaria del 1800 Luigi Settembrini nel suo essere patriota e nel suo essere figlio di una religiosità fortemente sentita è anche convinto che lo Stato della Chiesa possa costituire un ostacolo all'unità italiana e in effetti questo storicamente fu, ma comunque se rimaniamo in ambito strettamente napoletano ecco che questo intellettuale ha scritto e ha motivato la sua esistenza e la sua scelta ideologica nella difesa di quegli ideali italianisti che dovevano diventare poi gli ideali di tutti certamente sono ancora lontani i tempi in cui si dirà l'Italia è stata fatta bisognerebbe ora fare gli italiani ma indubbiamente siamo nel momento storico in cui questa scelta italianistica sta coinvolgendo grande parte della borghesia italiana è giusto e corretto storicamente anche sottolineare lo facevo anche prima che c'è una parte dell'Italia del Sud che si oppone a questo progetto e che preferirebbe lo stato borbonico e che legge nello stato borbonico alcuni ideali e alcuni motivi di fondo che non avrebbero dovuto essere cancellati ma Luigi Settembrini sta dall'altra parte di questa scelta ideologica e lo possiamo considerare un autore della letteratura italiana certamente per quello che ha saputo scrivere per questo pathos, per questo spirito che ha saputo mettere all'interno dei suoi scritti uno spirito che ce lo consegna appunto come anima indipendente come figlio di un secolo che ha urgenza, bisogno di un grande riscatto sociale e morale il riscatto sociale e morale degli italiani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti